bene allora non siamo a barcellona stiamo portando avanti il nostro lavoro da casa come come spero tutti voi e stavolta siamo qui con raffaele di lg italia che ci racconta un pochino quello che deve essere il loro flash di barcellona quindi il v60 il nuovo top di gamma 5g raccontaci un attimino così dopo ti faccio eccolo lì hard esatto se ce l'ho qua in mano lo sto utilizzando ormai da qualche settimana dal 26 di febbraio ovvero quando l'abbiamo annunciato e quando sarebbe dovuto essere visibile a tutti quanti ma purtroppo non è stato quindi siamo qua divisi da una webcam ma fondamentalmente il prodotto è questo uno smartphone che per noi è il flagship come giustamente dicevi uno smartphone che arriverà ad aprile verso la fine di aprile e che porta con sé alcune chicche alcune novità soprattutto multimediali devi sapere che per esempio la fotocamera principale da 64 megapixel è la vera star di questo smartphone innanzitutto ci permette di registrare video in 8k 8k che per noi significa avere più dettaglio significa riuscire a registrare quindi una qualità e una definizione mai vista prima perché nel momento in cui devi andare a fare uno zoom per esempio sul video che hai registrato riuscire a vedere anche i dettagli per esempio di quelle di quei soggetti che erano un po in secondo piano oppure magari qualche cosa che c'era sullo sfondo cosa che anche con un video in 4k non puoi fare sì l'8k lo sappiamo qualcuno potrebbe dire che è un po una cosa inutile però fondamentalmente tu dici serve più in fase di post produzione se vuoi per ritagliarti l'inquadratura desiderata perché ricordiamo si può fare visto che non dovrebbe fare crop c'è un crop minimo rispetto ad altre soluzioni 8k a vista di recente lo dico io tipo l'S20 ultra che fa un crop esagerato esagerato in questo caso il crop è minimo quindi ci permette davvero di andare a fare uno zoom 2x ottico ritagliandoci un 4k all'interno dell'8k o addirittura un 4x con un'immagine in full hd senza senza perite questa dovrebbe essere una un'ottima cosa è già definito non ancora perché la gente prima di tutto vuole sapere il prezzo di un prodotto secondo me ce lo tenevamo alla fine no allora il prezzo diciamo che è già definito al nostro interno ma ancora non te lo posso ufficializzare ti posso dire che dopo di che farai tu e i nostri ascoltatori faranno i loro conti non costiamo più di mille euro diciamo che li sfioriamo ok ma quindi questa questione del fatto che i produttori non vogliono l'865 perché è caro sì effettivamente se sfiorate mille euro è caro però diciamo sul vostro c'è l'865 sì certamente sì 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 allora c'è da dire che comunque noi con qualcomm abbiamo un sodalizio ormai da diverso tempo i nostri flagship hanno sempre montato l'ultimo processore di qualcomm quindi non vedo perché il v60 avrebbe dovuto avere un un processore diverso è chiaro che su un flagship le prestazioni sono importanti e a oggi qualcomm è quello che ci permette di avere le prestazioni migliori che ci sono in commercio a batteria come siamo messi batteria 5000 mAh che è la più grande che abbiamo mai messo su uno smartphone dlg si ricarica rapidamente sia con il cavo sia wireless nel primo caso a 25 watt nel secondo a 9 watt io ti posso dire per quello che è il mio utilizzo oggi in questi in queste settimane ormai di smart working e la batteria mi dura anche più di due giorni tant'è che a volte magari ho un po di difficoltà dico ancora il 30 per metto in carica e poi magari il giorno dopo arrivo in 5g e non mi pare che abbia tipo refresh elevati tipo 90 hertz 120 hertz è un plastic oled a 60 abbiamo abbiamo deciso di mantenere un classico display oled a 60 hertz perché sebbene dall'altro lato aumentando gli hertz e quindi il refresh rate dello schermo si ha una sensazione una percezione di fluidità più alta dall'altro però aumentano i consumi e quindi come scelta proprio di lg abbiamo preferito mantenerci su un refresh rate classico consolidato e da e privilegiare da questo punto di vista la durata della batteria c'è un la fotocamera frontale com'è che integrata si foro la fotocamera frontale da da nascosta dal classico background nero quindi c'è c'è la classica isola quindi come già avevamo visto sui vecchi lg isola che immagino si riproponga anche sulla custodia aggiuntiva perché ricordiamoci che è esatto è un mono screen che diventa dual screen volendo esatto infatti come lo è stato il v50 e anche come il g8 x c'è la possibilità di alloggiarlo all'interno di un dual screen in maniera tale da raddoppiare quello che diciamo noi raddoppiare le tue possibilità quindi fare una cosa su uno schermo e fare un'altra completamente diversa sul secondo schermo parlo di qualsiasi cosa e quindi per esempio c'è la possibilità di navigare su youtube e guardarsi un video da un lato mentre si chatta dall'altro magari a uno piace ascoltarsi youtube music non vuole fare l'abbonamento quindi lascia le musiche su youtube in uno schermo e dall'altra parte invece fa tutto quello che normalmente farebbe con la musica in sottofondo la custodia funziona la cover del mio v50 sul v60 aggiuntiva o sono diverse dimensioni non funziona non funziona perché le dimensioni sono radicalmente diverse 6,8 pollici di display oled veramente molto grande che è replicato esattamente anche sul secondo schermo mentre invece è sì non sarà incluso in confezione torniamo allora la parte un attimo fotografica mi pare di aver capito che il sensore è un sensore nuovo che abbiamo visto su uno smartphone dovrebbe essere l'omnimision da 1 su 1.7 questo non te lo so dire purtroppo mi cogli impreparato se dalle specifiche l'unico 64 così grande dovrebbe fare l'omnimision perché Sony non lo fa al momento e sono curioso di vederlo non c'è c'è il super wide che l'avete voi lanciato sugli smartphone fondamentalmente tanti anni fa non c'è però un tele quindi avete solo due fotocamere con un sensore time of flight voi esattamente la parte posteriore allora guarda la parte posteriore giusto per essere completi ha una 64 megapixel come dicevi con angolo standard 78 gradi un 117 gradi con un 13 megapixel ultra wide angle quindi e poi una copiata di sensori per il time of flight allora non abbiamo messo effettivamente il l'ottica zoom nonostante sia in grande diciamo così stia trainando gran parte dei prodotti della concorrenza perché abbiamo fatto un ragionamento di questo tipo innanzitutto col sensore da 64 megapixel noi semplicemente utilizzando la parte centrale riusciamo a fare uno zoom che è del tutto paragonabile allo zoom ottico 2x che avevamo per esempio sul v50 o sul g8s l'anno scorso quindi con un sensore soltanto riusciamo praticamente anche a fargli fare la funzionalità di zoom semplicemente utilizzando una porzione del sensore l'altra parte del ragionamento deriva da questo fatto il fatto che normalmente le ottiche zoom hanno una lente che è molto meno luminosa rispetto a quella dell'ottica normale no e di conseguenza spesso e volentieri che cosa succede lo smartphone quando c'è poca luce e per poca luce non intendo al buio è intendo anche semplicemente in condizioni di luce ambientale interna e quindi non all'esterno preferisce utilizzare comunque la fotocamera principale facendo poi un ritaglio dell'immagine per darti la fotografia con lo zoom 2x quindi avendo visto che fondamentalmente spesso e volentieri l'ottica zoom c'è ma non viene utilizzata per una questione di luce abbiamo detto tagliamo la testa al toro e utilizziamo un unico sensore che comunque mi dà lo stesso delle possibilità di fare uno zoom 2x sto vedendo veramente di quelle cose davvero stranissime perché ormai mettono dentro di tutto e poi far lavorare tutti insieme diventa davvero difficile cioè mi sono trovato davanti uno smartphone dove c'era lo zoom a 5x che si vedeva nettamente meglio di quello a 4.9x perché il 4.9 veniva fatto con un sensore e quello a 5 con un altro quindi alla fine ci sono questi comportamenti qua un po' bizzari un po' strani che adesso vengono modulati quindi stiamo veramente arrivando al limite della fotografia sugli smartphone perché più di così se non ingrandisci lo smartphone non si riesce non si riesce davvero a fare voi avete fatto anche qualcosa per per l'audio è il mio audio player preferito dovrei dirti che è il mio smartphone che preferito però ne uso un altro però per l'audio player per la musica flac così con le cuffie io ascolto solo praticamente c'è un vecchio g7 che utilizzo solo per ascoltare musica e qui e io di questo ti ringrazio perché non fai altro che dare prova del tipo di lavoro che stiamo facendo all'interno della nostra azienda proprio per divulgare una qualità dell'audio il concetto di qualità e allora come l'abbiamo realizzato in questo caso sempre mettendo all'interno dello smartphone il quad duck in maniera tale da diciamo così sovracampionare la tua musica e dargli una qualità ancora più alta riducendo il rumore di sottofondo abbiamo ovviamente il jack audio da 3,5 mm perché non puoi parlare di qualità audio e non mettere il jack perché alla fine quella esattamente dopodiché abbiamo lavorato su altri due ambiti il primo è integrando all'interno dello smartphone l'algoritmo di gestione della musica in diciamo così in surround virtuale 3d che abbiamo utilizzato sui nostri televisori oled si chiama lg 3d sound engine e quindi abbiamo utilizzato la nostra esperienza dei televisori e messa sullo smartphone niente dolby atmos è un vostro sistema per il momento no esatto e poi dall'altro lato invece abbiamo lavorato sull'audio per quanto riguarda la cattura dell'audio abbiamo per la prima volta quattro microfoni che mi servono sia per andare a catturare anche i suoni più flebili utilizzando la modalità smr sia anche grazie a una nuova modalità che abbiamo per la registrazione dei video all'aperto la funzione voice bokeh mi permette di enfatizzare la mia voce andando ad attutire invece tutti i rumori di sottofondo che se vi è capitato di registrare un video all'aperto tra il traffico il vociare delle persone sicuramente far emergere la propria voce inizia a diventare un problema con questi quattro microfoni invece non sarà affatto lo faccio ascoltare perché mi ha mai dato una clip dove provavi questa funzione quindi adesso va la clip sono qui nel parcheggio del decathlon sono le otto di mattina c'è un po di traffico c'è un camion alle mie spalle col motore acceso alla faccia dell'inquinamento ambientale e qui c'è sempre il camion alle mie spalle che ha sempre il motore acceso con la funzione voice out focus che sopprime i rumori ambientali o quantomeno li riduce per far sentire meglio la voce quando registriamo i video in un ambiente molto molto rumoroso la differenza effettivamente è notevole con questi quattro microfoni quindi sapete quindi una parte video anche molto curata mi ricordo che voi siete stati su alcune cose tipo sul video con le loot sul video creativo sul video professionale stati tra i tra i primi voi a introdurre certe cose e continuiamo ad avercele alcune cose siamo ancora unici per esempio nel video manuale a dare la possibilità di regolare addirittura il guadagno del microfono eventualmente il filtro fa passa basso e anche il limiter quindi veramente abbiamo una grossa attenzione a tutti questi piccoli dettagli che sicuramente possono fare la differenza quando uno vuole utilizzare lo smartphone per portarsi a per portarsi a casa un contenuto che possa essere veramente editabile come dicevi tu in apertura ti faccio un'ultima domanda perché appunto mi è venuto in mente tanto tempo fa avete lanciato il super grand'angolo nessuno all'inizio diceva ok serve poi adesso ce l'hanno tutti due o tre anni fa a mio avviso con sto raro avete lanciato il primo schermo 2 a 1 si era un g6 forse era il g6 col 2 a 1 e tutti dicevano quello schermo lì così lungo lo schermo è 16 9 adesso praticamente il 2 a 1 è quasi un miraggio perché la gente ha ha dei telecomandi ancora più stretti come ti fa sentire questa questa cosa di essere così da una parte innovatori tante volte magari anche non essere troppo capiti su quello che avete fatto e beh allora mi dà sicuramente tantissimo orgoglio di lavorare in un'azienda che non si ferma a quello che diciamo fanno gli altri ma prova sempre delle strade alternative ma ti faccio anche l'esempio ultimo del dual screen dall'altro lato chiaramente c'è la consapevolezza che per riuscire a guidare l'innovazione spesso e volentieri ci sono c'è bisogno anche di certi investimenti dal punto di vista marketing e pubblicitari che a oggi purtroppo ci mancano ancora quindi diciamo che internamente siamo ben coscienti della della situazione la cosa importante che però abbiamo comunque e continuiamo ad avere questa voglia nonostante il mercato sia sempre più competitivo e ci potrebbero essere delle tendenze a volersi un po appiattire a eguagliare un po gli altri invece no c'è la voglia di trovare qualche cosa di diverso poi con l'auspicio con la volontà chiaramente anche di migliorare la parte di comunicazione per riuscire a far arrivare questi messaggi e queste unicità a un pubblico più ampio possibile va bene raffaele quindi io ti ringrazio saluto quelli che ci hanno seguito adesso e niente questo era era il v60 dlg riusciremo a provarlo spero riusciremo a uscire di casa per provarlo per fare delle foto per vedere come funziona con i video perché c'è quella funzione dei microfoni che mi attira perché il mio problema è sempre stato quando facevo video che avevo molto rumore di fondo se uscisse adesso a fare un video di rumore non ce ne sarebbe quindi secondo me non servirebbe neppure comunque v60 quando arriva un'ultima cosa fine aprile nei negozi sarà disponibile sul nostro sito e poi stiamo finalizzando anche gli accordi con gli operatori telefonici per riuscire ad avere anche delle opzioni tariffarie nei negozi online a fine aprile nei negozi fisici quando riapriranno e beh ovviamente però molti negozi di questo periodo che purtroppo lo ricordiamo sta non è un bel periodo quindi il nostro avvertimento come sempre state in casa anche voi noi stiamo lavorando da casa lo studio è praticamente virtuale se vi facessimo vedere il backstage vi mettereste tutti a ridere però comunque stiamo cercando di andare avanti come prima ma lavorando da casa quindi fatelo anche voi grazie Raffaele ci vediamo alla prossima sperando che tu il G9 non lo debba lanciare anche da camera tu anche quello faremo quello che c'è da fare ovviamente però l'augurio è che ovviamente nel giro di qualche settimana si possa tornare tutti quanti magari non alla vita di prima ma sicuramente una vita più vicina a quella che facevamo prima va bene ciao 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 ciao